Ciao sono Dario Tamburrano, dopo sette anni torniamo qui perché io insieme ad altre persone, poche persone dell'inizio, abbiamo iniziato nel 2005-2006 a inseguire questo sogno che in molti consideravano una follia. Non era facile essere grillino nel 2005-2006 perché si era guardati un po' con sospetto dagli amici, dai parenti, dai colleghi di lavoro, perché parlavamo di cose strane. Abbiamo iniziato volantinando per le strade sugli onorevoli condannati e purtroppo il livello dell'informazione in Italia anche solamente otto anni fa era tale che quelli strani eravamo noi. Mentre in Parlamento, che dovrebbe essere il luogo dell'onestà e della rettitudine più completa, sedeva una percentuale di condannati enormemente superiore ai cittadini che si possono prendere a caso per le strade d'Italia. E per me questo è un posto anche un po' simbolico perché la prima volta che ho parlato su un palco era 200 metri qui dietro con questa maglietta ed era l'8 settembre 2007 quando abbiamo comunicato a tutta l'Italia che potevamo provare a mandarli a casa. Quello è stato il momento in cui il movimento è arrivato all'attenzione di tutta la popolazione. Ricordo che per due giorni le televisioni non ne hanno fatto praticamente cenno, hanno dovuto parlarne quando era assolutamente impossibile negare che in un giorno un manipolo di pochi ragazzi senza esperienza aveva raccolto 350.000 firme. Poi sono passati anni e grazie alla rete, grazie al movimento abbiamo cominciato a squarciare il velo dell'informazione e a scoprire una serie di questioni, di situazioni, di emergenze, di cose accadute anche nel lontano passato che erano del tutto sconosciute e abbiamo cominciato anche a comprendere meglio che cosa è diventata questa Europa perché noi italiani per decenni abbiamo pensato che l'Europa era una sorta di garanzia, di maggiore correttezza, di tutela. Dicevamo tra di noi, meno male che siamo in Europa perché così almeno di fronte a questi quacquaracqua che ci stanno governando abbiamo un minimo di garanzia. Però negli ultimi 25 anni questa Europa è andata incontro a una degenerazione perché si è nata come il sogno europeo di Spinelli, il sogno di popoli che si uniscono in un percorso comune per evitare di versare ancora sangue su questo continente e quindi per anni è stata una via per aumentare il progresso, l'equità, l'istruzione, è stata sicuramente una cosa positiva. Poi è diventata un'Europa in mano ai mercati finanziari, è un'economia degenerata. Tante volte, io sono nato come ecologista, mi sono sempre occupato di ambiente, nuovi modelli di sviluppo, nuove economie, di questioni energetiche, di questioni comunque ambientali però mi sono accorto con il tempo che nel momento in cui il potere di gestire la politica in Europa come nel nostro paese e in mano ai gruppi, alle lobby, agli interessi della finanza nessuna riconversione di questa società sarà mai possibile perché tenderanno comunque a schiacciarci e a mantenere lo status quo. E allora la prima riflessione è il rapporto che c'è tra le parole economia, quella vera, ed ecologia perché se noi andiamo a vedere il significato originario di queste parole che hanno completamente mistificato le parole ecologia ed economia sono fratello e sorella perché derivano dal greco dove l'ecologia significa lo studio dell'ambiente e della propria casa mentre l'economia significa l'ordine dell'ambiente e della propria casa quindi non esiste economia reale, vera, salutare, se non c'è l'ecologia ovvero se noi non sappiamo come gestire, se noi non conosciamo il nostro ambiente con gli anni questa economia finanziarizzata ha fatto sì che queste due parole diventassero contrastanti tra di loro tant'è che quando si parla di ambiente e di ecologia ci si dice non c'è il lavoro, non possiamo fermare questa locomotiva della crescita infinita della crescita del PIL sul quale si fondano questi maledetti parametri europei che ci stanno distruggendo e allora io sono orgoglioso di questo programma del 5 Stelle che parla di economia perché la prima intenzione è abbattere questa economia malata in maniera tale da poterne fare una nuova e ci dicono che non c'è il lavoro ma è anche questa una mistificazione perché il cervello umano è fatto in maniera tale che se vengono ripetute le parole più e più volte come un mantra il cervello umano arriva a credere alle cose anche che non esistono e allora noi siamo arrivati a credere che veramente il lavoro per questa crisi sia immediatamente scomparso, dissolto nel nulla non si sa dove è finito questo lavoro eppure tutti noi abbiamo bisogno di qualche artigiano per le nostre case di un falegname, di un imbianchino, abbiamo bisogno del medico, del dentista e a livello più ampio le nostre città hanno bisogno di essere completamente ricostruite rigenerate, rimodellate, va cambiata la mobilità vanno isolati i palazzi per risparmiare l'energia dobbiamo far fronte a quelli che sono i cambiamenti climatici con le bombe d'acqua quindi va cambiato molto, c'è un enorme lavoro da fare per affrontare il futuro che ci aspetta in questo secolo e allora non è vero che non c'è il lavoro che cos'è che manca, che cos'è che ci ha schiacciato e ci ha portato a credere il nulla manca il denaro, manca la moneta ma la moneta non è più come qualche secolo fa un qualcosa che ha un controvalore reale depositato da qualche parte un tempo le monete erano fatte o di metalli preziosi oppure erano le banconote ovvero le note da banco che andavano ad attestare che qualcuno aveva depositato un qualcosa di reale che fosse oro, che fosse grano, che fossero proprietà terriere all'interno di una banca mentre negli ultimi decenni gli ingegneri del denaro hanno inventato questo gioco di prestigio come l'euro, come il dollaro, come quasi tutte le valute moderne della creazione del denaro da nulla che è una semplice convenzione che viene imposta si chiama valuta a circolazione forzosa e allora questo marchi ingegno può avere due effetti può essere una condizione straordinaria per superare le difficoltà del momento le limitazioni fisiche con gli investimenti oppure può essere uno strumento di oppressione nel momento in cui è in mano a delle banche private che vendono a noi popolazioni, a noi stati il nostro denaro perché è quello che succede il denaro stampato ad interesse è come se ci fosse venduto e allora questo è un meccanismo di schiavitù lo stiamo vivendo sulle nostre teste e quando andiamo a vedere questi trattati che parlano del debito di ritorno al debito il vero obiettivo non è quello di riequilibrare le economie abbiamo visto questi signori quanto sono stati bravi ad affossarle ancora di più l'obiettivo, il progressivo è impadronirsi delle ultime risorse reali con il denaro e il debito creato dal nulla in una maniera simile a quello che è successo negli anni 50, 60 e 70 con la creazione del debito del terzo mondo perché anche noi stiamo diventando terzo mondo cosa facevano i signori del denaro la banca mondiale e il fondo monetario internazionale con il denaro creato dal nulla lo prestavano a governi corrotti mantenuti in piede artificialmente dagli stessi padroni del vapore e con la scusa dello sviluppo delle opere, della crescita, del lavoro le stesse scuse che ripetono a noi e poi questi soldi finivano nel nulla da nulla generati e rimaneva il debito che era il cappio, lo strumento per impadronirsi nei paesi del terzo mondo delle risorse minerarie ed energetiche dei legnami e della degnità dei lavoratori con la manodopera a basso costo da noi con il fiscal compact e tutte le altre cose che arriveranno è uno strumento di schiavitù per prenderci le nostre sovranità e allora il 25 il livello dello scontro non è un voto normale sarà un referendum forse l'ultima via pacifica per liberarsi da questa schiavitù o per andare verso la schiavitù del debito perenne con la perdita completa per secoli della nostra dignità il 25 è un momento che rimarrà nella storia e potremo dare il segnale anche agli altri popoli europei che gli italiani possono risollevare la testa vinceremo noi e stravinceremo grazie 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 a tutti